La Giunta Comunale oggi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che è propedeutico ad approvare poi il progetto definitivo. Un milione e tre l'investimento da parte dell'amministrazione comunale, 300 mila euro i soldi che metterà la Fondazione Studi Universitari per portare a Vicenza un'altra facoltà di Uova, quindi design industriale, per attrarre studenti, aumentare l'offerta formativa ma soprattutto continuare ad investire sull'università.